Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Il caso di oggi parla di come l'amore possa trasformarsi in un'ossessione. Vi ricordate la prima volta che avete avuto il cuore spezzato? Molti di noi hanno vissuto una rottura o una perdita che li ha lasciati distrutti letteralmente a pezzi. Un evento così doloroso da portare molte persone a pensare che non fosse possibile che le cose migliorassero. Ma dopo del tempo per guarire, per rimarginare quelle ferite, si è riusciti a ritrovare la gioia e la luce. Non è questo il caso però di Ellen Yavanoch che afferma di essere totalmente diventato pazzo dopo che lui e la sua ragazza storica Anna Bui si sono lasciati. Anna nasce nel 1997 a Everett, Washington, una ragazza gioiosa, piena di vita e attenta al prossimo. Amava stare con gli amici e desiderava un lavoro che le permettesse di poter aiutare gli altri. Frequentò la Kamiak High School con buonissimi risultati accademici. Era anche un membro del coro e ricordata da molti per la sua bellissima voce. Proprio a scuola incontrò Ellen Yavanoch e i due incominciarono a frequentarsi. La relazione durò abbastanza a lungo e successivamente il ragazzo affermerà che Anna è stata la prima persona di cui si è mai stato innamorato e di aver dato a lei il suo primo bacio. Sembravano proprio una coppia normalissima. Entrambi si diplomarono nel 2015 e si iscrissero all'Università di Washington. La ragazza voleva diventare un'infermiera mentre Ellen si era specializzato in ingegneria informatica. Ad un certo punto però la loro relazione ha una battuta di arresto. succede a molte coppie giovani. Si sa le cose cambiano quando si cresce. Cambiano gli interessi e le abitudini e le strade possono talvolta separarsi. Ma ecco il dettaglio che rende questa vicenda ancora più incredibile. Fu Alan a rompere con Anna. Mentre la ragazza andò avanti nel proprio percorso vivendo le proprie esperienze Alan cominciò a comportarsi in modo strano. Dopo la rottura la sua salute mentale ebbe un crollo totale e il giovane cominciò a comportarsi in modo impulsivo e aggressivo. Parlò spesso di quanto fosse geloso dei ragazzi che Anna frequentava e la situazione divenne pensate così difficile che arrivò persino a pensare di togliersi la vita. Un dettaglio che fa pensare è questo. I genitori di Alan sapevano che il ragazzo era in seria difficoltà. Sembra che abbiano sofferto a lungo a causa dei suoi problemi psicologici e che fosse andato da uno specialista perché aveva provato a farsi del male. Il medico aveva detto che era importantissimo che il ragazzo ricevesse aiuto ma sia Alan che la madre decisero di non fare nulla. La situazione peggiorò drasticamente dopo la fine della relazione con Anna e anche le persone che stavano più vicini a Ellen non sapevano quanto stesse precipitando nel baratro. Non fecero nulla infatti per aiutarlo. Sia chiaro non sto assolutamente dicendo che i problemi psicologici siano una scusante per quello che fece poi ma se il ragazzo avesse ricevuto magari l'aiuto di cui aveva bisogno forse le cose sarebbero potute andare diversamente. Ad ogni modo a un mese prima dall'avvento che avrebbe cambiato tutto Ellen comprò una pistola. Si trattava di una pistola semi-automatica in grado di sparare moltissimi colpi in poco tempo e provocare enormi danni in mani sbagliate. Nonostante il suo passato di instabilità mentale e le condizioni psicologiche in cui si trovava in quel momento il ragazzo non riscontrò nessun problema a comprare la pistola e la portò a casa lo stesso giorno. I genitori sapevano dell'acquisto e l'unica cosa che fecero fu chiamare il negozio per sapere se potessero restituirla, cosa che ovviamente il ragazzo non fece. Il 30 luglio del 2016 un gruppetto di ragazzi del vecchio liceo, inclusa Anna, parteciparono a una festa a Mukilteo. I giorni precedenti alla festa Ellen aveva mandato dei messaggi allarmanti a un amico dicendo che aveva in programma di presentarsi alla festa con la sua nuova arma e si definiva un futuro tiratore. Sembra che prima di procedere con il suo piano il ragazzo fece un ultimo tentativo e il 29 luglio chiese Anna di tornare insieme. La ragazza rifiutò il che ha senso se si pensa che era stato proprio lui a rompere con lei. Il giorno della festa Alan scrisse nuovamente all'amico dicendo che sarebbe andato al party e avrebbe aperto il fuoco. Il suo interlocutore chiaramente non prese sul serio le minacce infatti invece di chiamare aiuto disse ironicamente all'amico di andare a caccia invece di pensare ad Anna. Ma Ellen rispose semplicemente no, aveva ormai preso la sua decisione. Aveva quindi raggiunto il luogo della festa ed era rimasto in macchina alcune ore. In quel lasso di tempo guardò i partecipanti al party andare e venire e lesse il manuale di istruzione della pistola il che dimostra ulteriormente che non sapesse cosa fare. In precedenza aveva detto infatti agli amici che avrebbe preso lezione di tiro per non fare casini. Mandò un ultimo messaggio all'amico dicendo che in un paio di minuti avrebbe iniziato a sparare ma rimase in macchina ancora un'ora e mezza. Decise di andare avanti col piano dopo che vide Anna parlare con un ragazzo scese dalla macchina camminò fino alla casa e aprì fuoco. Tre persone persero la vita quella sera. Jacob Long 19 anni incappato in alle mentre il ragazzo si stava introfolando alla festa venne colpito tre volte alla schiena. Will Kramer riuscì a scappare nonostante un colpo alla schiena e riuscì a chiamare la polizia. Joban Erben invece non fu così fortunato morì fuori dalla casa a pochi passi da Jacob. A quel punto Ellen trovò Anna in cucina e non esitò un attimo a far fuoco colpendola dritto in testa. Alla fine il ragazzo si affacciò sul balcone della camera da letto e sparò a tutti quelli che vedeva fino a quando non rimase senza proiettili e corse via. Incredibilmente non ferì nessuno con quei colpi. Allen scappò dalla scena in macchina e venne arrestato a 100 miglia di distanza in meno di due ore. Fu accusato di triplo omicidio aggravato. Dopo essere stato dichiarato colpevole di tutte le accuse il ragazzo decise di fare una dichiarazione e quello che affermò sconvolse moltissime persone. Non sembrò minimamente interessato a prendersi la responsabilità delle sue azioni. Incolpò la sua instabilità mentale, la sua situazione emotiva e persino il demonio. Ma quello che ci tenne a sottolineare fu che non era completamente colpa sua. Questo fece arrabbiare come potrete immaginare moltissime persone. Nonostante le famiglie delle vittime richiesero la pena di morte, Ellen fu condannato all'ergastolo senza possibilità di riduzione di pena. Non lascerà mai quella prigione. I genitori di Anna fecero causa alla famiglia di Ellen affermando che le morti di Anna, Jacob e Jordan si sarebbero potute evitare se i problemi di Ellen fossero stati gestiti al momento opportuno. È stata inoltre istituita una borsa di studio in ricordo di Anna per dare ad altri studenti l'opportunità di viaggiare e conoscere il mondo come stava facendo la ragazza prima di quella sera. Eccoci arrivati alla fine del caso di oggi. Io ragazzi non riesco veramente a capire come facciano dei genitori consapevole che il figlio ha dei problemi del genere a decidere di non aiutarlo. Lo trovo semplicemente assurdo. Ma lascio la parola a voi. Che cosa ne pensate? Grazie come al solito per aver visto questo video e spero di vedervi al prossimo.